Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale, venuti in questo nuovo video che in realtà sarà un mix di clip perché praticamente ho qui 4 pacchettini e sto bruciando dalla voglia di fare l'unboxing e quindi vi faccio già vedere una parte di book haul, spacchettiamo questi insieme e poi mi devono arrivare altri due pacchi ma siccome arriveranno uno in teoria doveva già essere arrivato non si sa bene dov'è, l'altro arriverà più avanti quindi io farò un'altra clip e l'attaccherò qui e voi la vedrete dopo, sarà un unico video ma sarà girato ovviamente in un momento diversi della mia piccola vita allora partiamo un attimo dai libri che ho fuori dai pacchettini allora siamo stati al mercatino dell'usato a inizio mese e abbiamo fatto danni e abbiamo fatto danni, io ho più contenuti rispetto a lui però c'è di uno in realtà ma ho voluto osare, ho voluto osare perché ho preso, vabbè, ho preso l'arte svedese di mettere in ordine di Margareta Matnusson edito dalla nave di Teseo, questo costava 15 euro ma l'abbiamo pagato 1 euro quindi ho detto, vabbè, senti, per 1 euro visto che io adoro questo tipo di libri sull'organizzazione poi in casa non c'è però, è un altro discorso adoro questi libri qua quindi Giova ha detto, senti, prendilo per 1 euro che te frega e l'ho preso e l'ho già letto ma poi ci arriveremo poi c'era un altro libro, sempre nella sezione a 1 euro della Notte Tempo di Dubravka Ugrejic, Baba Yaga ha fatto l'uovo io non ho idea di cosa parli questo libro, cioè non ho ancora molto capito però ho detto, vabbè, per 1 euro mi butto perché già l'altra volta girando per quello scaffale mi aveva un po' attirata il titolo un po' così particolare e quindi ho detto, vabbè, per 1 euro lo faccio si può provare e poi ho voluto prendere un libro di Stephen King che è un autore che io non è che lega tantissimo sinceramente perché ti fa paura sì, però c'era la chiappa sogni che so che non è uno dei suoi migliori e neanche mi interessa, va benissimo così però era uno di quelli che molti anni fa mi ero messa in lista insieme al talismano e a qualcos'altro che non mi ricordo nemmeno più perché pare siano quelli un po' più tendenti, diciamo non al fantasy, però insomma sono quelli un po' meno horror quindi non dovrebbero fare paura non dovrebbero fare paura non dovrebbero perché sappiate che io con l'italismano avevo iniziato e poi ho chiuso perché mi faceva paura già come descriveva le foreste quindi rendiamoci un attimo conto di qual è il mio livello di supportazione esatto comunque c'era lì in teoria costava 4,75 euro ma in realtà no perché era là da gennaio quindi si era costato tipo 2 euro e gli ho detto senti facciamo l'azzardo tanto alla peggio a lui si venga in piace quindi se proprio va male se lo legge lui il problema non si pone poi io sono sempre dell'idea che quando sei al mercatino e i libri costano poco è il momento giusto per buttarti se comunque la cosa ti interessa, ti incuriosisce anche se poi magari va a finire male chi se ne frega non hai speso 20 euro non hai comprato cosa a caso questo cosa costa? 2 euro penso perché costava 4,75 e me la da gennaio poi ha avuto un attimo di buon cuore quest'uomo e praticamente erano in giro e siamo passati in libreria lui ha comprato il libro che poi vedrete di Bursi che poi vedrete nel suo video o che avrete già visto o che avrete già visto non lo so dipende quando è vero esatto io invece ho voluto comprare il primo volume di Upside Down Magic Magia Imperfetta questo costato 14,90 euro edito dalla PM cioè nella collana del battello a vapore naturalmente è un libro per ragazzini di magia ma come si può intuire dal titolo ogni capitolo ha questa nuvoletta così e niente da quello che ho capito c'è una serie da qualche parte tipo su non so se su Disney Plus, Disney Channel che cavolo ne so so che c'è però non l'ho vista quindi non so dirvi è bella mi hai detto che non devo fare come se fossi nel wrap up visto che hai il book haul quindi di questo ne parleremo poi nel wrap up perché ovviamente viste le dimensioni l'ho già letto anche questo mi è piaciuto non è il wrap up allora vedete mi dicevo ricordo di che e poi e poi altro atto di buon cuore praticamente cosa è successo che io mi sono accorta proprio totalmente per caso che avevamo i punti sulla tessera del libraccio che ovviamente scadono il 30 aprile o meglio saranno scaduti il 30 aprile perché sono quelli che abbiamo racimolato credo nel 2019 visto che nel 2020 non abbiamo potuto andare al libraccio in nessun modo no forse eravamo andati al libraccio a Torino forse eravamo riusciti ad andare per non chi chiudessero tutto sì 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 vabbè insomma praticamente mi sono accorta che avevamo questi 80 punti ho detto scusami però con 60 punti sono 5 euro se tu ci scupi scopra al che gli ho detto visto che tornando a casa da lavoro comunque sulla strada hai un libraccio salta dentro e prendimi il libro di Ransom Riggs che appunto è le desolazioni del Vissacre l'ultimo volume proprio quello definitivo finale conclusivissimo della serie dei bambini speciali di Miss Peregrine quindi io lo dovevo avere prima di subito pubblicato ovviamente sempre da Larizzoli dico un attimo di buon cuore perché voi dovete sapere che lui mette un budget tutti i mesi un po' per me un po' per lui però questo qui mi ha detto no te lo regalo io non lo contare nel budget mi sono commossa mi sono commossa e quindi niente non ho neanche letto la trama perché voglio andare proprio così ti pacco la patta ti pacco tutto ti lopo tutto poi invece tornando invece al budget che è quello che vedete qui speso tra il budget suo e il regalo di Pasqua di mia nonna ho fatto un po' di scortina ho voluto provare a prendere il primo volume della terra delle storie l'incantesimo del desiderio di Chris Colfer e nell'edizione della Burr perché era da tanto tempo che giravo intorno a questa saga proprio tantissimo e visto che è una di quei troppo di quei temi che piacciono a me di ragazzini che girano nei libri ho detto basta senti cosa ti dilunghi da fare ancora e ancora nella vita buttati che è morbido quindi l'ho voluto provare questo costava 12,50 euro e niente perché me lo sono persa usato sui braccio perché dovendo aspettare lui che diceva no aspetta facciamo l'ordine quel giorno là e quindi mi sono persa la copia usata vabbè fa niente pazienza adesso arriviamo invece agli spacchettamonti spacchettamonti dunque questo è un libro usato l'ultimo che mi mancava delle edizioni in Santa Caterina l'ho un po' giocata alla sorte nel senso che da che parte si apre aspettate ma com'è girata questa busta scusate non capisco questa è la trama di un libro giallo un ordine nel pacco fa lo spacchettamento in diretta e trova la mano di un cadavere serve una trama bellissima perché fai quello stavo dicendo questo che era l'ultimo che mi mancava delle edizioni in Santa Caterina ho voluto un po' giocare con la sorte nel senso che l'ho voluto prendere usato adesso la sto giocando con la carta però ho voluto prenderlo usato su Amazon perché comunque è da terzi perché comunque anche pagando le spedizioni mi costava molto meno rispetto al libro nuovo quindi esatto è tenuto benissimo quindi ho detto va bene e mi è andata molto bene a differenza di un altro che adesso poi ci arriviamo e questa è La fabbrica della fantasia storia editoriale di libri per ragazzi appunto edizioni Santa Caterina è il numero 13 è quello che è uscito l'anno scorso quindi sono un po' in ritardo adesso ce li ho tutti ma fra qualche mese ne uscirà un altro quindi sarò di nuovo indietro comunque questo qua avrà un po' la precedenza rispetto ad altri perché libri per l'infanzia comunque è un tema che mi interessa magari di più che non che ne so le traduzioni piuttosto che un'altra roba in questo momento dico eh poi ovviamente arriverò anche agli altri però tanto sono stati lì fino adesso quindi possono stare lì ancora un po' voglio dire non è che gli succede niente ovviamente quindi gentilmente tienilo qui grazie poi poi l'altro motivo per cui ho voluto giocare con la sorte ho preso una trilogia perché era scontatissima cioè ogni volume costerebbe 12 euro e mezzo tipo questo è in inglese però c'era lo sconto praticamente prendendo il primo usato e il secondo e il terzo che erano scontati di molto ho speso tipo 20 euro la sorte in questo caso mi è avversa perché sarebbe dovuto arrivare entro oggi il primo volume e non è ancora arrivato e io sono un po' in ansia perché non ho il numero della tracciabilità che ho richiesto al venditore però devo ovviamente aspettare la risposta comunque io nel frattempo ho qui il volume 2 e il volume 3 adesso non so bene in quale pacco sia uno in quale pacco sia l'altro ma non è interessante esatto quindi potrebbe essere un problema se non arriva potrebbe essere un pacco comunque qui abbiamo questo è il volume non lo so 2 ed è praticamente la trilogia della Zodiac Legacy di Stanley Stuart Moore e Andy Tong questo lì è quello e questo è The Dragon's Return praticamente è una serie che parla di questo ragazzo che ottiene dei poteri magici legati all'oroscopo cinese perché lui è tipo cino-americano mi sembra qualcosa del genere sono belli cicciosi però dentro sono comunque belli colorati ci sono le illustrations adesso le ho viste ma ovviamente quando le devi far vedere non le trovi mai quindi insomma come storia è sicuramente nelle mie corde ovviamente non le leggerò subito perché non sono in grado in questo momento fisicamente di mettermi a leggere dei libri di 500 pagine in lingua visto che ancora non riesco a farlo in italiano però insomma visto che sto riprendendo piano piano mi rinoltrerò anche nelle letture in lingua se mi arriva il primo perché dovrebbe essere un problema non averlo e qua invece dovrebbe esserci il terzo perché questo mi ha detto che era il secondo ma che è il 50 no perché è una trilogia ecco sì questo è The Balance of Power ed è giallo giallo ocra giallo caghetta mi piace a te si abbina i tuoi pantaloni sì invece senape si dice eh senape eh sì e anche questo dentro è giallo cioè dentro è giallo non tutto naturalmente però ha le pagine ha le pagine gialle come come quello del telefono qui c'è c'è un disegno così e poi ci sono anche qua le illustrations e sono curiosa però ovviamente speriamo di una partita da qui bisogna partire dal primo io spero che se non mi arriva quello quello mi faccia rimborso io lo prendo da un'altra parte tanto ho visto che su ebay comunque si trova purtroppo non c'è su su come si chiama eh come si chiama eh book depository e la coppia nuova su amazon costa 20 euro che mi costa più di quanto pagato tutto insieme quindi no qua invece non so cosa c'è nel senso che questo è un libro che mi ha preso la giuggiolina so che è un libro perché me l'ha detto so che ha temo Harry Potter perché me l'ha detto salutiamo la giuggiolina salutiamo la giuggiolina che mi ha regalato questa cosa bella qualunque cosa sia che non so ancora ma sicuramente sarà bella e adesso lo scopriamo insieme cos'è lo scrapbook di diagonale se non faccio danni è meglio se non lo faccio non lo so adesso vediamo no vabbè c'è la busta c'è la busta allora facciamo un giro a diagonale praticamente abbiamo qui Hagrid e Harry non l'ho conosciuto ma l'ho visto in giro così però non non l'avevo e quindi adesso ce l'ho mi ha detto guarda che però in inglese ma non c'è problema va benissimo c'è il ci sono insomma tutti i vari posti in diagonale vediamo qua il nottetempo ma quel biglietto si stacca non penso però è appiccato sopra nel senso è il biglietto del nottetempo qui spiega come funziona il paiolo magico poi ci sono tutte le cose diagonale c'è la lettera per Hogwarts la lista la lista di libri da prendere cioè io questa cosa poi non capisco più niente sono bellissime ricordati che questa bocca non è guapata lo so anche perché non l'ho letto ancora quindi come faccio qui c'è la Gringot qui c'è una lettera immagino che sia è il capello non vuoto no immagino che sia vuota immagino che sia vuota no ci sono ah ci sono i galeoni e non le napi ovviamente ma i scellini e i cosi i cosi chiaramente le falci no sto facendo pasticci ma è meglio se lo fai in un altro momento e invece no lo posso fare anche adesso insomma ci sono i denari i denari siamo riti vabbè dai mi resto lo vedrete ma come io fai vedere tutto tutto no mica le sto uscendo tutte le tagini vabbè ma scusami così che si fa mica come fai tu cose brutte vabbè hollivander poi c'è Flourish and Blots che non mi ricordo come si chiama in italiano e poi c'è la mappa la mappa con le cose che si alzano vabbè 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 è un sacco figo vabbè 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 l'ho staccato l'ho staccato e non volevo però è rotto no non l'ho rotto l'ho staccato e non volevo c'è il coso del quidditch perché non l'avevo mai perché perché non lo so perché perché ce ne sono tanti che non ho preso ancora come perciò di tutti che ho riporto tanti volumi extra in questo senso dico è blitz mom c'è la gazzetta del profeta mangia morte in diagonale vabbè insomma è figlissimo e grazie è bellissimo abbiamo terminato me lo guardo con calma no abbiamo terminato la prima parte ma noi non salutiamo aspettate non salutiamo perché arriveranno non salutiamo perché adesso dovrei attaccare l'altra clip fondamentalmente qui c'è il biglietto della giugiola che però me lo leggo da sola ciao io non posso fermare il video perché sono sepolto dai libri devi fermarla tutta e lo fermerò io e tanto poi ci vediamo fra mezzo secondo con l'altra parte ma se adesso c'è l'attacco l'altra appunto l'attacchiamo e se siete arrivati qui guardate anche il seguito comunque c'è una texture fantastica la copertina nel senso che c'è qui dove ci sono i mattoni è un po' vellutato no che schifo forse è arrivato finalmente il libretto mancante che io non so aprire perché è super incollato quindi 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 usiamo le forcibi le forcibi vedo già che è probabilmente un'edizione diversa da da quella degli altri due volumi cosa è un mea colpa nel senso che potevo controllare prima però pazienza cosa devo fare quello c'era quello ho preso tanto per 5 euro va benissimo ti do al mente sei qui ah no forse forse sì è un po' più squadrato rispetto agli altri due aspettate è un po' brutto da vedere però però va bene lo stesso è arrivato siamo felici siamo molto molto felici ah questo si apre anche meglio degli altri attenzione come gli altri è diversa la qualità nel senso la carta è molto più bianca si apre di più però ci sono comunque sempre i disegni insomma nel colore giusto ecco va bene va bene sono contenta lo stesso ero un po' in ansia perché non stava più arrivando però va bene però sono un'edizione diversa però va bene ce lo facciamo andare bene tra l'altro questo ha la copertina in qui in rilievo mentre qui è lucido no questo si vede qui è lucido qui è in rilievo va bene va bene va benissimo dovevo guardare prima non l'ho fatto mea culpa sono contenta che è arrivato così per qualunque cosa posso almeno leggerlo insomma ecco perché avere il 2 e il 3 e non avere l'1 poteva essere un problema e adesso manca solo il pacco di libraccio e ce l'abbiamo fatta all'alba del 28 aprile o meglio nel pomeriggio del 28 aprile finalmente è arrivato anche il pacco di libraccio stranamente con due giorni d'anticipo io sono veramente 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 commossa quasi piango quasi piango sono anche stranita dal fatto che abbiano usato uno scatolino così piccolo nel senso va benissimo perché sono solo 4 libri però di solito per me e non Rob mettono delle cose giganti adesso che erano insomma 4 articoli mi aspettavo un pacchettino un po' più grandino ma va bene così adesso vediamo se riesco ad aprirlo senza fare danni senza uccidermi e senza uccidere ciò che c'è dentro mi sa che non ci sono le bustine che piacciono a te no vuole una scoppietta uè non so mandalo indietro facciamo il reclamo il mio marito vuole le bustine scusate no no ce n'è ce n'è ce n'è una forse però c'è allora sono due libri usati e due nuo no che cavolo dico sono tre libri usati e uno nuovo tieni ce n'è giusto due misere posso scopriare direttamente scopriare siamo qui vedete che bello peccato che non ce ne è scusate scusate non me la lasciare qua la tasca la tasca ce l'ha sempre fuori qualunque pantalone la tasca a destra è sempre costantemente fuori la tasca è di un uccello come dice Lucchino allora la prima cosa che vedo mi lascia già un attimo perplessa e sciocco basita perché io me lo aspettavo in copertina rigida visto che punto uno era spammato per copertina rigida e punto due il volume precedente era effettivamente in copertina rigida tant'è che io l'ho preso in questa versione grande proprio perché dicevo almeno lo metto vicino all'altro e sono rigidi entrambi invece l'avrei preso altrimenti in copertina flessibile avendolo già letto però vabbè non importa va benissimo comunque costava meno così che non nuovo cos'ha e usato cos'ha non c'era quindi pazienza trattasi di sempre d'amore si tratta di Susanna Casciani edito dalla Mondadori questo dovrebbe essere sui 16 euro quindi l'ho pagato sugli 8 questo l'ho già letto faccio lo spoiler no spoiler niente perché in realtà il video delle audioletture è già uscito quindi sapete che l'ho già letto però voglio rileggerlo e anche in tempi brevi perché mi è piaciuto tantissimo e c'erano tante frasi che che volevo segnarmi però con gli audiolibri faccio fatica a stoppare ascoltare scrivere mi viene scomodo invece così dovrebbe essere più facile tanto sono poche pagine per i più scritti abbastanza grandi sono 159 pagine neanche perché inizia pagina 7 quindi sono 152 153 se proprio vogliamo quindi mi metto là un paio d'ore e mi scopiazza tutto quello che voglio poi mi sono lanciata dopo dopo tutte le le volte che Debbie mi ha detto sto leggendo questo libro sto leggendo questo libro sono caduta anch'io nell'accademia del bene e del male e ho detto senti visto che c'è il primo libro usato lo provo costava 6 euro ho detto vai buttalo dentro che va bene e quindi niente sto vedendo che dentro è illustrato in realtà l'avevo già visto da alcune foto innate prima che c'erano sul sito del libraccio purtroppo come dicevo con Debbie non ci sono quelle cose bellissime che ci sono ovviamente nell'edizione in copertina rigida perché ovviamente le pagine interne della copertina sono tutte belle colorate disegnate bellissime però pazienza vabbè alla fine la cosa importante è che sia bello il libro poi per i cambi di edizione eventualmente c'è sempre tempo sempre che uno li trovi usati perché ho visto che è difficile trovare soprattutto il primo volume in copertina rigida dopodiché quello nuovo che ho comprato ma che brutto questo bollino che non si può togliere è Darkest Minds di Alexandra Bracken nell'edizione della Pequic perché mi sto ho deciso che voglio provare a lanciarmi insomma in nuove serie questa qui l'avevo puntata per dirvi da quanto l'avevo puntata da quando era uscito il primo volume in inglese in copertina rigida quindi torniamo indietro di almeno cinque anni credo e niente siccome ci sono i libri della Pequic al 20% di sconto nuovo costerebbe 10,90 quindi ho pagato sugli 8 euro ho detto senti vai buttati che è morbido e va bene così ovviamente ho letto l'anteprima prima di comprarlo mi ispirava quindi ho detto va bene puoi farlo tra l'altro cioè stavo notando no? che hanno pochissime pagine di differenza credo questo con l'accademia del bene e del male forse molto meno di quelle che pensavo sì perché questo ha quasi 490 pagine e questo è quasi 500 ma guardate sembra piccolissimo il confronto vabbè l'ultimo libro in realtà è stato un acquisto un po' casuale tra virgolette nel senso che cercavo qualcosa per arrivare a non dover pagare le spedizioni perché la spedizione gratuita sui braccio è dai 29 euro e io ero arrivata tipo a 28 e rotti mi rodeva tantissimo perché dico per pochi centesimi dannazione e allora ho detto vediamo se trovo qualche altro libro che mi interessa usato e lo butto dentro così non pago la spedizione ho comunque un libro in più è sempre una cosa interessante e allora mi sono messa un po' a cercare qualcosa che potesse interessarmi di quello che avevo effettivamente in lista che volevo comprare in questo periodo non c'era niente di usato però poi ho trovato di questa autrice di cui ho già letto cose ho trovato questo libro qui l'autrice è Lorenza Ghinelli e ho trovato almeno il cane è un tipo a posto edito dalla Burr lo volevo in copertina flessibile perché almeno lo metto poi vicino anche gli alberi bruciano perché in realtà c'era su Amazon la copertina rigida a 5 euro anziché 15, 17 non lo so però lo volevo in copertina flessibile sul libraccio c'era questo usato con stato un euro in più grandissimo chi se ne frega questo libro deve essere appartenuto a questa ragazza che ha pensato bene di piazzare l'etichetta con il suo nome in copertina ti picchio ti picchio ti picchio perché l'etichetta la metti dentro non davanti dannazione quindi niente io adesso vabbè però forse si elimina facilmente e magari anche senza troppi danni e e niente con queste facce un po' diciamo non bellissime vabbè non che di solito dovrebbe essere terminato il mio book haul che come vi avevo detto sarà cioè in realtà l'avrete ormai visto da soli è un insieme di clip video probabilmente l'audio sarà anche sfalsato perché per qualche strana motivazione il video editor che uso fa queste cose brutte e e niente quindi questi sono gli ultimi quattro libri io sono la bambina felicia adesso appena poi John mi lascerà il computer andrò a registrarli nei miei vari file perché voi sapete che io sono malata nella testa e eh lo sappiamo tu dovevi dire no amore cosa dici e quindi e quindi ho tutti i miei file per catalogare tutte le varie robe e dato ciò io vi saluto fateci sapere se avete comprato qualcosa di bello ultimamente se avete qualche libro da consigliarci e io vado ciao